Dopo il grande successo dello scorso anno, con 14 serate e 56 spettacoli che hanno visto esibirsi 185 persone, torna a fanno il mercoledì degli artisti, protagonisti dell'iniziativa e i sei locali, che sin dalle prime edizioni hanno sempre rinnovato la loro volontà di aderire all'iniziativa, più altri quattro che vanno così ad arricchire la manifestazione. Tutti uniti per dare vita a sei palcoscenici che dall'8 giugno fino a settembre offriranno spettacoli musicali di ogni genere. Ciascun locale presenterà un programma che non andrà ad accavallarsi con le esibizioni organizzate dalle attività confinanti. L'assessorato al turismo del comune di Fano continua a sostenere il mercoledì degli artisti e si parte domani. È un progetto fantastico, sappiamo che sarà una stagione piena di eventi e soprattutto di weekend, ma abbiamo deciso di ampliare l'offerta, di ampliare la vivibilità della città. La città vive nel periodo estivo con il giovedì dei bambini e il mercoledì abbiamo deciso di dedicarlo agli artisti. Ma lo facciamo, devo dire, grazie al grande supporto che stanno dando le attività economiche, quindi alcune attività del centro ma anche della zona mare che portano musica o comunque portano attività artistiche diverse, attività che guardano alla pittura, attività che guardano alla musica e all'arte del genere. Quindi questo mercoledì vivo organizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini che coordina un po' l'evento, ne coordina la comunicazione e insomma vuole anche informare sulla qualità degli artisti che sono in arrivo nella nostra città e che insomma la rendono viva. Ecco, quindi da questo mercoledì, insomma potete tutti i mercoledì sera arrivare nel nostro centro storico, nella zona mare, ricordo ad esempio che anche il porto quest'anno aderirà come altri locali centro, comunque potete venire nella nostra città e godervi dei buonissimi aperitivi e delle buonissime in cene in compagnia con l'arte e la musica che insomma prende parte nella nostra città. Grazie a tutti!